che parlano i giornali, il 10% di quello che parlano i giornali, sicuramente di tutto quello che parlano i giornali io prendo l'1%, giuro. Guarda, io guadagno il mio contratto, il mio contratto di calcio, dopo quello che viene per pubblicità, per questo, per l'altro, io praticamente non lo metto in banca, perché io mi piace vivere bene, capito? Mi piace vivere bene, mi piace comprarmi le macchine che voglio io, mi piace dare quello che si meritano i miei familiari. Questa è la mia felicità, la piccola felicità, però, che alla fine è grande, perché per me è tutto. Mi ho comprato la Ferrari, che non l'hanno visto. La testa rosa, però me l'ho fatto fare nera, tutta nera. Era il sogno della mia vita, capito? Questa è la canzone di Diego Armando Maradona, che ci ha costato un sacco di milioni, non è vero. Ma il pueblo è felice, perché a loro ha manato come i rischi. Ma il pueblo è felice, perché a loro ha manato come i rischi. Po' d'ombrià che si è chiamata Brubulone, ma stata a casa costa e coscia a bancarella, che a roppo d'angue c'è sta pura tarantella. Se fossi stanchi, voi bruana o a Paria, può far fermare, che voi sono tanta polizia, ma non darete in una vasta pesaria, capura o no, se voi scartà. Ma che faccio, ch именно la autora, non puoi... Guarda, guarda, guarda. Ma come puoi? Non posso, non posso. Vai, va, hai com'è la mente. Andiamo dentro perché c'è non fa un casino. come si vive un po per te questa obligazione di essere anche un uomo pubblico si io entiendo perfectamente il mio ruolo di hombre pubblico e che la gente sempre che la vera maradona però aca entrano molto pocos aca in mia casa aca praticamente io non deixo che venga a nadie perché voglio la mia privacità con mia figlia con con mia mujer con con la gente con la gente che sempre stuva al lato mio per casser le giù di cache cache avec le paparazzi e altri giornalisti ma anche per tenere il suo ruolo di star del football international maradona ha imposato ses regi una conferenza di presse hebdomadaire al tito di capitale dell'equipe di napole non c'è il fatto che io sono maradona e io ho la parola al contrario aca habla solamente il allenatore e noi stiamo come per fare le caso e per trattare di fare le cose bene la fortuna di Napoli credo che è il fatto di che si abbiano juntato molto buoni persone per fare questo l'equipe di Napoli in Italia l'entraineur ha tutti i power ma è il è il primo condamnato se l'equipe è chiuso trovare la combinazione giusto con un fenomeno come Maradona non deve avere un posto di esigenze tattiche lui deve esprimersi al meglio della sua classe della sua caratteristiche siamo noi che dobbiamo creare un blocco compatto per evidenziare le qualità della sua caratteristiche